ben a tutti ragazzi il nuovo video su squad buster c'è l'oro di tara quindi guadagni estremi andremo a vedere prendiamo le novità dovrebbe uscirci dobbiamo sempre accumulare blue cake si parte dai giganti erborei andiamo con il primo noi non raccogliere loro abbiamo bisogno di un altro personaggio se non faticheremo tanto quindi prendiamo il valore a 4 stelle stiamo faticando un po all'inizio abbiamo bisogno di una potrebbe risortare un po di risorse goblin intanto buono 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 recuperiamo un po di moneta ragazzi barbaro non proprio la miglior partita sembrerebbe un altro giro che io guarda becco un altro goblin per andare a spagare adesso 30 no 20 più è un nuovo cuore che si guarda un altro goblin si guarda anche eccolo qua fuori medio ottimo intanto abbiamo preso un po di posizioni siamo quarti attraverso un po di posizioni siamo quarti che tutti i più danni abbiamo bisogno di assimulare un po di genio altro personaggio è il primo noi andiamo verso il centro adesso ragazzi andiamo verso il centro che abbiamo bisogno di attimulare un po di genio quello con lui difficilità di risposta quindi mettiamo bene oh che cosa sta ci servono l'ora ci servono l'ora che ora non ha fatto di la collega verità adesso gli schifo con l'attaccamento il quadro a due è vero che non gli schifo fare andiamo a ritornarsi in quattro facciamo da spettacolo, facciamo da spettacolo, andiamo da spettacolo, andiamo da spettacolo ultimi venti secondi ragazzi, ultimi venti secondi dove dobbiamo cercare di fare il nostro vai non è perfetto, ci si fa una cosa di buono che è grande dai, tutto quello grande quarto comunque dai, non male viaggio intorno al mondo arriviamo ad un altro baule sbloccato 3 barbaro per 5 prendiamo la carta vediamo l'evoluzione da fare vediamo un po' l'estellare che è a 4 nonostante giusto, vedo un po' l'evoluzione se vi stavo a fare la scuola e guarda la scuola ci tocca fare un'altra partita ragazzi, vai obiettivo al crepuscolo doppio guaglio piccolo problema è un po' l'evoluzione a un po' l'evoluzione niente da fare ragazzi il video finisce qua che dire ci vediamo nel prossimo